Andiamo ora a descrivere che cosa sono queste curve di possibilità pluviometrica. La questione che ci vogliamo porre è se esistono delle curve che assegnate il tempo di ritorno diano l'altezza di precipitazione in funzione di una durata prefissata. Cioè, noi vogliamo dire, ah, quale sarà l'altezza di precipitazione con un tempo di ritorno di 200 anni e per una durata, per esempio, di un'ora? Questa è la domanda alla quale rispondiamo con la definizione delle curve di possibilità pluviometrica. Queste curve di possibilità pluviometrica sono delle curve, dunque, che mettono in relazione l'altezza di precipitazione con quello che compare alla destra della formula, che altro non è un coefficiente che dipende dal tempo di ritorno, la durata t compi della precipitazione e un esponente, questo esponente non dipende dal tempo di ritorno. Quindi l'altezza di precipitazione nel suo complesso dipende dal tempo di ritorno e dalla durata della precipitazione. Entrambi sono in qualche modo dei tempi, ma sono dei tempi di significato diverso. Come funziona il calcolo delle curve di possibilità pluviometrica? Beh, quando noi, vi ho accennato nella lezione precedente, che noi andiamo a prendere una serie temporale, costruiamo una finestra, per esempio, di un'ora, muoviamo questa finestra lungo la serie temporale, avanti e indietro, e andiamo a misurare qual è la finestra temporale in cui cade la precipitazione più grande. Se adesso noi la finestra la facciamo un po' più grande e ci muoviamo, è chiaro che in questa finestra prendiamo di più precipitazione, se passiamo da un'ora a tre ore, per esempio. Quindi la prima informazione che abbiamo è che l'altezza di precipitazione cresce con la durata, cresce con T con P. Questo significa che l'esponente N che compare a destra della formula delle curve di possibilità pluviometrica è un numero maggiore di zero. Una curva che si comporta, se vogliamo, qualitativamente come la radice quadrata della durata della precipitazione. Che cosa succede invece per l'intensità media della precipitazione? Di questo un po' l'avevamo visto nella tabella delle precipitazioni estreme che avevamo già visto. Stiamo parlando di precipitazioni estreme qui, quindi non di precipitazioni qualsiasi, perché le precipitazioni qualsiasi hanno un'estrema varietà di comportamenti. Ma se noi andiamo a calcolare le precipitazioni esterne con questa modalità che vi ho appena accennato, una cosa che andiamo a verificare è che viceversa l'intensità di precipitazione diminuisce con la durata. Poiché l'intensità media di precipitazione è uguale all'altezza di precipitazione diviso la durata, la sua formula è A t con R per t con P alla n-1 e questo n-1 deve essere minore di zero affinché l'intensità di precipitazione sia una funzione decrescente della durata. Quindi significa che anche n è minore di 1. Quindi nelle curve di possibilità pluviometrica n è maggiore di zero e minore di 1. Un'altra cosa che dovrei dire in queste fasi preliminari è che queste curve di possibilità pluviometrica in realtà non interpretano i dati per tutte le durate, cioè non posso passare dai millisecondi agli anni con quel t con P. Queste curve sono delle approssimanti del comportamento delle precipitazioni su intervalli temporali, su intervalli non prefissati ma opportuni. Per esempio noi possiamo interpolare una curva di questo tipo sui dati degli scrosci di cui vi ho parlato prima, quindi precipitazioni di idrata oraria o suboraria oppure sui dati di precipitazioni con più giorni, quindi plurigiornaliere, ma non tutti gli intervalli di precipitazione insieme. Quindi n compreso fra 0 e 1, questa curva vale per le precipitazioni in intervalli prefissati. Solitamente si usa per precipitazioni da 0 ad 1 ora, da 1 ora a 24 ore e poi giornaliere, plurigiornaliere. Queste in qualche modo corrispondono alle modalità di produzione di questi tipi di precipitazioni esterne che magari nelle durate più brevi sono lo specchio di quello che succede in una cella convettiva. Nelle precipitazioni viceversa più lunghe sono precipitazioni di natura frontizia in cui possono mescolarsi sia fenomeni di tipo convettivo che fenomeni di tipo stratiforme. Se calcoliamo il logaritmo delle curve di possibilità pluviometrica e quindi se vogliamo rappresentare i dati che stanno alla base della derivazione di queste curve, vediamo che in un grafico bilogaritmico queste sono rappresentate da rette. Difatti il logaritmo dell'altezza di precipitazione è uguale al logaritmo di a più n, il logaritmo di t con p. Questo applicando le regole normali dei logaritmi. Per esempio queste sono in un grafico bilogaritmico tre curve di possibilità pluviometrica. Sono tre curve di possibilità pluviometrica, una per 50, una per 100 e una per 200 anni di tempo di ritorno. I puntini che vedete segnati sono i dati che sono via via interpolati in accordo ai colori. Questo tuttavia vi devo anche dire, in base alla regola che i grafici bisogna farli bene, che questo grafico non è un grafico fatto bene. Io nel corso degli anni l'ho lasciato in questo modo, anche se poi io insegno a farlo meglio, proprio per sottolineare che questo non è un grafico fatto bene. È un grafico bilogaritmico, ma per esempio mentre sulle ascisse i valori sono leggibili, cioè ho una, dieci e cento ore, come vedete in ascisse rappresentate come tick marks, in ordinate ho il logaritmo della precipitazione. Ora il logaritmo della precipitazione qui, non ho ben chiaro, penso sia il logaritmo in base a dieci a risultare dalle misure, perché il tempo di ritorno di 200 anni mi dà 10 alla 2,3 sarà 150 mm di precipitazione, una cosa di questo genere. Magari voi potete fare con la calcolatrice il calcolo esatto. E questo può essere una cifra ragionevole, ma come vedete proprio dal mio ragionamento, per esplicitare il valore che sta sulle ordinate, io devo fare un calcolo e questo non va bene. Dovrei riportare sì un diagramma bilogaritmico, ma che riporti, come accade per le ascisse, i valori in millimetri e non nel logaritmo dei millimetri. L'altra cosa che potete osservare è che queste curve sono approssimativamente, beh, vedete gli A sono molto simili e l'N, e qui è 0.472. Le curve sono approssimativamente parallele fra di loro. Man mano che il tempo di ritorno aumenta, ovviamente il valore del coefficiente A aumenta, perché è quello che dipende dal tempo di ritorno, mentre viceversa l'esponente rimane più o meno costante. Ora che le curve non debbano intersecarsi nell'intervallo di misure, in questo caso fra un'ora e 24 ore, questo è dato dalla costruzione del modo in cui costruiamo le curve. Cioè i punti verdini stanno tutti sopra i punti violetti, che stanno tutti sopra i punti blu. Anche se forse qui il blu è un violetto, vabbè, comunque mi avete capito. Però se le curve potrebbero essere visibilmente non parallele, in questo caso o c'è qualcosa nei dati, oppure c'è qualcosa che non va nella teoria, nel modello di curve di possibilità pluviometriche che io vi ho dato, che è quello standard che viene usato comunque ovunque. Perché le curve non possono intersecarsi? Beh, se supponiamo che in un certo intervallo di tempo noi andiamo a tracciare quella curva punteggiata e questa curva sia una curva di ritorno con un tempo di ritorno di 500 anni. Questo non corrisponde a nessun dato reale, è solo un'ipotesi. Allora, quindi avremo per la durata, per esempio, di due ore, che è all'incirca in prossimità delle due frecce a sinistra, ho un'altezza di logaritmo di 1.9 in logaritmi, quindi quasi 100 mm per il tempo di ritorno di 500 anni. e invece ho 1.5, 10 alla 1.5 di millimetri per il tempo di ritorno di 200 anni. Questo è corretto, il tempo di ritorno più in alto deve dare, più grande, deve dare precipitazioni maggiori. Però le curve qui, in questo caso, sono visibilmente non parallele fra di loro ed estrapolando la curva andiamo ad osservare che, per esempio, la curva di 500 anni passa al di sotto della curva di 200 anni. Quindi, per esempio, per la durata di 10 ore, la curva di 500 anni prevede una precipitazione inferiore alla curva di 500 anni e questo, la curva di 500 anni prevede un'altezza di precipitazione inferiore ai 200 anni e questo chiaramente non è possibile. Quindi qui si rivela, diciamo, un assurdo logico, ma semplicemente significa che non può mai succedere all'interno del range di misure che si sono utilizzate, ma può accadere che, estrapolando per tempi più lunghi e più corti, questo possa succedere. In generale, le curve comunque devono essere sufficientemente parallele fra di loro. La pioggia cumulata deve... Qui ho un grafico migliore delle curve di possibilità pluviometrica. C'è un certo non parallelismo, ma, insomma, mi posso anche accontentare. Per esempio, potrei considerare gli effetti della curva media. Qui, per ogni durata di precipitazione, posso entrare con la durata della precipitazione, intercetto la curva e per ogni durata, anche quella non corrispondente ai dati, posso ottenere la pioggia cumulata. Facile. E ovviamente il dato sulla curva verdina è quello con 100 anni di tempo di ritorno, quello sulla curva arancio con 20 anni e quello sulla curva azzurrina, quello con 10 anni. I punti, quei cinque punti, sono interpolati con un metodo di regressione, per esempio i minimi quadrati, potrebbe essere in questo caso, che è uno strumento che io assumo, voi conosciate, e se non lo conoscete, poi me lo scrivete, ma comunque lo faremo, faremo tutte queste operazioni in laboratorio e appliceremo gli opportuni algoritmi. I punti che vedete segnati dalle frecce sono effettivamente quelli che sono ottenuti con la procedura che avevamo descritto prima, cioè abbiamo interpolato delle curve di probabilità sui dati di ciascuna durata, dalle curve di probabilità abbiamo ottenuto il tempo di ritorno e poi siamo andati a disegnare i punti arancioni, arancioni blu e verdi in funzione del tempo di ritorno. Poi i punti con lo stesso colore, quelli che corrispondono allo stesso tempo di ritorno o alla stessa frequenza, li abbiamo interpolati. È ovvio che qui ci manca un'operazione che è l'interpolazione dei dati alle curve di possibilità pluviometriche, cioè dell'interpolazione dei dati pluviometrici di una certa durata ad una curva di probabilità. Ricapitolando, per ogni durata interpolo una distribuzione di probabilità ai dati. Questo è fatto graficamente qui dai box plot, ma poi lo faremo in pratica nella prossima parte di lezione. Con la distribuzione di probabilità assegnato il tempo di ritorno, per esempio 10 anni, sulla destra, e assegnato il tempo di campionamento, per esempio un anno, vado a calcolare la probabilità di non superamento, che è 1-MU diviso il tempo di ritorno. 1-1, se il tempo di ritorno è 10 anni, è un decimo, cioè 0.1, quindi in questo caso la probabilità corrispondente è 0.9. La probabilità è un numero, perché solitamente questo non appare, perché M, che di solito è posto a 1, quindi dal punto di vista del valore, il valore è sempre 1-1 sul tempo di ritorno. Dal punto di vista concettuale, il tempo di ritorno è un tempo, la probabilità invece è un numero. e questo non dobbiamo mai scordarlo. Questa operazione la ripeto per tutte le durate, ovvero questa operazione, la 1.1 e questa operazione, la 1.2, la ripeto su tutte le durate. Quello che capita, quindi, ho questo che vedete disegnato qui. Le curve rossa, blu, verde, rosso scuro e blu scuro, cosa sono? Sono le curve di probabilità che io ho interpolato ai dati iniziali, ciascuna per la diversa durata. sulla curva di probabilità sono andato a calcolare il mio tempo di ritorno di 10 anni, per la curva rossa è il punto che è il punto primo a sinistra e poi via via sulla destra le durate maggiori. Così devono essere le curve. Le curve di probabilità si devono spostare all'aumentare della durata da sinistra verso destra e non dovrebbero mai intersecarsi anche se poi voi vi capiterà interpolando i vostri dati che in alcune situazioni le curve si intersecano e questo è evidentemente una situazione che va analizzata e va ripensata e i dati non sono corretti in quel caso o l'interpolazione che avete fatto. L'intersezione in questa curve può avvenire nella parte alta di questo grafico perché la parte alta di questo grafico generalmente si riferisce ad estrapolazioni dei vostri dati che normalmente sono un tempo di ritorno quando io parlo di un tempo di ritorno di 10 anni significa che 10 anni sono normalmente nell'intervallo di misura che io ho dati per esempio per 30 anni e vi consiglio di non avere meno di 25 un campione di 25 anni di dati e quindi 10 anni e un tempo inferiore però se io chiedessi un tempo di ritorno di 100 anni vedrete che nelle serie temporali che poi nelle serie che voi dovrete analizzare vedrete che ci sono ben poche serie superiori ai 100 anni quindi in un campo in cui stiamo estrapolando le curve di probabilità i valori e qui in quel caso si potrebbero anche sovrapporre il risultato a cui dobbiamo su cui dobbiamo concentrarci qui tuttavia sono appunto i 5 punti che andiamo a misurare che abbiamo che ho chiamato H1 H3 H6 H12 H24 che sono quelli che poi venivano riportati qui per interpolare le curve di possibilità pluviometrica a questo punto attraverso l'interpolazione di questi punti che qui è rappresentata in un grafico bilogaritmico ma può essere fatta anche in un grafico totalmente diverso siamo in grado di ottenere le curve di possibilità segnalatrici di possibilità pluviometrica che qui sono disegnate in sono disegnate in un grafico in cui le ascisse hanno un andamento lineare e quindi sono rappresentate da curve crescenti che hanno un andamento che appunto ci ricorda quello della radice dell'ascissa possono essere disegnate in un grafico bilogaritmico questo di nuovo è un grafico bilogaritmico disegnato correttamente in cui sulle ordinate leggo i millimetri sulle ascisse leggo le ore e quindi qui sono delle rette potete anche osservare i dati a volte i dati risultano un po' insoddisfacenti come vedete per esempio i puntini tondi rappresentano non sembrano propriamente distribuirsi lungo una retta una curva sarebbe probabilmente più adatta a questo ma per il momento noi non ci occupiamo di questa problematica che andremo magari ad analizzare in un secondo momento anche questa parte di lezione è finita e pertanto un secondo momento un secondo momento un secondo momento